in lontananza i rumori e rumori misto il cupo tono del quattro tempi e il lacerante sibilo della beta 302 tempi a miscella oggi condotta dal direttore tecnico vedete che affrontano il cartofo affronta questo pezzo scorrevole vedete il direttore tecnico in sella la sua poterosa miscella nonché il presidente nonché il presidente ora ora un commento a caldo su questo pezzo scorrevole misto su questo pezzo se stai a 10 metri si sta bene direttore com'è direttore adesso fino a mattinata ti do un risponso adesso devi ancora interpretare adesso è solo tiromotore fantastico la forca queste sono forche da preparazione da allenamento Pito Peppe da training quello ufficiale arriverà la miscela noi dobbiamo tornare lì prima o poi tanto puzziamo io scendo da una moto da gara Peppe capito che ha vinto mondiali però la forca quella è sempre rosso capisci e poi guarda come sto con le gambe Peppe guarda sembro alto vediamo un po vediamo in tutta altezza il tetore tecnico allora l'altrivo un pochettino un po' passetta adesso l'alziamo come opziona alla sella alta allora per non perdici in ciance partiamo Peppe se no facciamo tardi va avanti Peppe sempre scorre giù bene fino a campi tranquillo è bellissimo a dopo